Il brano in realtà non avrebbe bisogno di grandi presentazioni Piazzolla l'ha scritto in una sera sola quando ha scritto della morte del padre e la trascrizione per prima volta è fatta io Ed è l'ultimo brano Che abbiamo in programma No! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.